Attenzione, questo video è una presa ironica del video di Giastremo, non vuole offendere nessuno, quindi per favore non scrivetemi nei commenti Ah Giastremo è più bello di te, è più talentuoso, famoso di te, tu fai schifo, eeeh E quindi semplicemente fai questa parodia perché lo vuoi offendere, perché lui ha più iscritti di te Per favore godetevi il video e non rompete le palle In più volevo ricordarvi di passare dal canale di Sfrank che mi ha dato questa idea geniale di fare questo video fantastico Quindi passate dal canale di quel ragazzo che è un grandissimo genio Ma chi è? Ma che è l'inizio di un film horror? Ragazzi prima che inizi il video ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare qui sopra la campanella per non perdervi altri episodi E che dire? Follettini e follettine 7 passa qui, 7 per 8,56 E anche oggi ho finito tutti i compiti per domani Brava bambina Ah anche questa puntata è finita, dai non è stata tanto male Però adesso non so che fare, ho tutto il pomeriggio l'evero Cosa ci fai qui? Tu cosa ci fai qui? Ma no, siamo fratelli e sorella, viviamo nella stessa casa Elisabeth, adesso costruiamo una casetta Allora iniziamo con quelli verdi Ma non sono tutti verdi Minchia, sono passati due minuti e ha costruito il muro di Berlino Che bene Elisabeth, abbiamo finito di costruire la nostra casetta Ma quale casa? E' un muro quello, ma quale casa? Elisabeth, questo è Sissy ed è un unicorno Come unicorno? Raga, fermi Significa che non sono l'unico drogato di Youtube Italia, non ho capito No, fermi E adesso, tocca che mettere le luci Ma mi volete pigliare per il culo? Non è possibile, ne capitano tutte a noi Già Elisabeth era difficile da tenere Adesso immagina quanto sarà difficile che ne abbiamo due Appunto, già ne basta una Se poi ne dobbiamo sopportare due In un video, in una serie di video Vabbè Ciao, Giastrimo Elena Sono Babbo Natale Mi piglia per il culo? No Oh, mi fa male la testa Ah, mi ragazzi No 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 Grazie a tutti.